Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 160esima puntata del podcast di Marcos Box. A quanto pare il tappetino nero è così tanto tossico, almeno nel breve periodo. E rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi le principali notizie del mondo del software libero open source. Questa puntata sarà quasi esclusivamente dedicata agli aggiornamenti di diversi software multipiattaforma largamente utilizzati sia da pinguini che da gatti ninja. Apriamo questa puntata così come era stata aperta la precedente, ovvero parlando di Fedora 39, una delle distro più amate e apprezzate dai pinguini di mezzo mondo. Gook ha pubblicato una nuova guida post-installazione dedicata a Fedora 39 Workstation, ovvero l'edizione principale di Fedora, quella con Gnome, giusto per intenderci. Nella guida vi dà alcuni suggerimenti su cosa aggiungere alla distro per rendere usabile per la maggior parte delle operazioni quotidiane. A breve poi arriverà anche un ulteriore articolo con alcuni consigli su come personalizzare Gnome e Shell su Fedora 39 e rendere la Shell più usabile, più vivibile, più comoda per uso sul desktop. Restando in tema di distribuzioni Linux parliamo adesso di una notizia che arriva dall'estremo oriente che riguarda Tongsin UOS, la versione commerciale di D-Pin Linux. Tongsin UOS ha stabilito un invidiabile record in terra natia. Stando il comunicato stampa rilasciato da Tongsin Software, la società che guida lo sviluppo e commercializzazione della distro, Tongsin UOS viene utilizzato in Cina da oltre 3 milioni di utenti paganti, diventando così il primo sistema operativo in Cina a raggiungere questo obiettivo. La società crede molto in questo progetto investendo denaro in cendi di sviluppo e collaborando con oltre 20 produttori di periferiche agenzie di certificazione per testare e certificare diversi tipi di componenti hardware. Ma soprattutto collabora anche con i principali produttori di chip, coopera ad esempio con Longson, Fengtang, Hai Guang, Shaoxin, Sunwei e se tutti questi nomi non vi dicono nulla, beh, collabora anche con Intel, il big della produzione di chipset che tutti quanti conosciamo. Sarà dunque la Cina a far realizzare in futuro l'asticella dell'adozione di Linux in ambito desktop? Io credo di sì, visto e considerato che la Cina ha sia le risorse che le motivazioni per distaccarsi dai big del settore informatico occidentale. E voi che cosa ne pensate? Spossiamoci adesso su un altro argomento che mi sta molto al cuore e che sta molto al cuore a moltissimi di voi utenti. Nelle ultime puntate vi avevo parlato di due buone notizie riguardanti Wayland, ovvero dall'inizio dell'aggiunta del supporto a Wayland per Cinnamon e della migrazione a Wayland per Pantheon su Elementario S8. Beh, la Wayland mania sembra essere inarrestabile e adesso ha ufficialmente contagiato anche KDE Plasma. Gli sviluppatori del miglior desktop environment del mondo hanno comunicato che KDE Plasma 6, il cui rilascio è previsto per il prossimo 28 febbraio 2024, offrirà Wayland per impostazione predefinita. Le distribuzioni che adotteranno KDE Plasma 6 potranno ancora optare per X.Org, se lo desiderano, ma come ben sappiamo già la maggior parte delle distribuzioni si è pronunciata e opterà breve per il passaggio a Wayland. Che sia dunque arrivato il pensionamento per X.Org? Lo scopriremo fra non molto. Fra l'altro vi ricordo anche che Firefox si è pronunciato e che nella prossima versione, la 121, ci sarà abilitato il supporto a Wayland per l'impostazione predefinita sul browser. Quindi oramai tutti quanti si stanno spostando sul carrozzone di Wayland. Cambiamo adesso l'argomento e passiamo a parlare dei software liberi che sono stati aggiornati in questa settimana. Cominciamo con il rilascio di OBS Studio 30, la nuova e mezzo release del famoso software di streaming e registrazione video gratuito di open source, largamente utilizzato dagli streamer di mezzo mondo. OBS Studio 30 porta con sé nuove funzionalità come il supporto per Intel QSV H.264, HEVC, AV1 su Linux, l'aggiunta dell'output VHIP WebRTC, l'acquisizione dell'audio dall'applicazione su MacOS, un nuovo pannello nella cabina di regia di YouTube Live durante lo streaming su YouTube, miglioramenti vari all'interfaccia utente e l'aggiunta di una case shader per migliorare il tempo di avvio di OBS su Windows. Nuova e mezzo release anche per Blender con il rilascio di Blender 4.0. Blender non ha certo bisogno di presentazioni, si tratta del famoso software libero e multifiattaforma di modellazione, rigging, animazione, montaggio video, composizione, rendering, texturing di immagini, tridimensionali e bidimensionali, cioè praticamente con Blender ci fate tutto. Ci sono professionisti che utilizzano anche in ambito architettura per realizzare il rendering di case, appartamenti e quant'altro. Blender 4.0 migliora sia l'interfaccia utente che le prestazioni, aggiunge nuove funzionalità come la GX, il light linking e il supporto alle API Metal di Apple per il ray tracing hardware. Maggiore informazioni su questa nuova versione con un video che vi spiega quali sono le novità le trovate nell'articolo dedicato su Marcosbox. Infine si aggiorna anche Foliate, uno dei migliori ebook reader GTK che giunge alla versione 3.0.0 e per l'occasione il software è stato completamente riscritto da zero con le GTK 4. Altra importante novità di questa versione è che adesso il software è disponibile di un proprio parser render di ebook e non utilizza più EPUBJ e Kindle Unpack. Quindi anche Foliate si adegua finalmente al nuovo corso delle GTK. E chiudiamo la puntata con una nuova non recensione. Qualche giorno fa ho pubblicato una nuova video recensione dedicata questa volta a un paio di auricolari bluetooth a marchio Redmi il sub-brand economico di Xiaomi un prodotto economico che non mi ha convinto per nulla. Trovate la video recensione sul canale YouTube e la recensione scritta sulle pagine del blog. Mi raccomando di seguire numerosi il canale YouTube mettete tanti mi piace, seguitemi numerosi, fate aumentare il numerino così magari sono sponato anche a fare più video. Che poi detta così può essere anche controproducente è capace che mi togliete il mi piace così da farvi smettere di fare le video recensioni anzi che video non recensioni. E con questa ultima notizia si congude qui questa 160esima puntata del podcast di Marcos Box come sempre vi invito a seguirmi numerosi sulle pagine social su Facebook, X, LinkedIn, Mastodon ma anche su YouTube e Telegram. Vi ricordo di notte che su Telegram trovate tre canali per seguire il blog la pagina principale con le notizie che potete utilizzare a modo di feed reader la community Telegram dove potete discutere di tutto quello che vi interessa ed infine un canale Telegram con una serie di offerte Amazon da me selezionate che potete utilizzare per supportare il blog grazie ai link affiliazione o se siete più smanettoni potete utilizzare direttamente voi il codice referral Marcos Box-21 che trovate comunque pubblicizzato sul blog. Vi ricordo che questa è la settimana del Black Friday su Amazon quindi ho iniziato a postare più articoli, iniziato a selezionare più articoli e fatemi sapere poi se volete supportare il blog se avete qualche articolo particolare che volete acquistare comunicatemolo tramite Telegram e vi genero il link referral. Beh, con questo è tutto, un saluto a tutti quanti, lunga vita e prosperità e ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del Podcast di Marcos Box. Ciao ciao!